siamo con la signora roberta allegri nella cartoleria vassallo che a quanto pare la notizia di questi giorni va a chiudere dopo 170 anni di attività ma si ricorda qualcosa lei di quello che possono aver raccontato ovviamente non potrebbe esserci di questa storia ma io le dico che chi ha aperto era mio trisavolo che si chiamava settimio luigi e dopo di dopo di lui c'è stato il genero che ha rilevato il negozio si chiamava stefano vassallo appunto stefano vassallo ha avuto diversi figli sette se non sbaglio e alcuni hanno lavorato in negozio compresa mia nonna durante il tempo di guerra e dopo mia nonna mio padre che è stato qua diciamo che veniva anche quando aveva 90 e passa anni veniva ancora in negozio e poi io nel frattempo comunque mio padre era socio con una cugina io sono rimasta socia con il figlio di questa cugina e poi lui è mancato e allora sono rimasta titolare io perché il figlio di mio cugino non ha voluto continuare nell'azienda dopo di ciò non so che cosa dirle mi racconti mi racconti se ha qualche aneddoto delle vecchie gestioni di questa storia che va raccontata io le posso dire che un tempo avevamo la legatoria e la tipografia io la legatoria non l'ho mai vista in realtà la tipografia sì c'erano diversi operai e devo dire la verità che nessuno si è mai fatto male in questa ditta e quindi è una gioia no che non ci siamo mai stati incidenti nonostante i macchinari che fossero quelli di un tempo quindi manuali taglierine e compagnia e sono sempre stati tutti diciamo d'accordo delle persone con cui avevamo un bellissimo rapporto almeno io posso dirle che quello che ho imparato l'ho imparato da mio padre ma soprattutto dalla dipendente che avevamo a quei tempi perché quando io sono venuta ero piuttosto giovane e lei mi ha insegnato parecchio nella vendita eccetera che se devo dire che mio padre era molto in gamba ma si occupava più che altro della gestione della contabilità faceva tutto manualmente lui e qualche aneddoto che cosa le posso dire ma c'era un nostro che ha iniziato come dipendente come fattorino ha iniziato e nella sua vita ha voluto continuare a fare il fattorino e c'è stato finché non è andato in pensione come si chiamava rinaldo marussi diventato poi rinaldo traverso per problemi che ha avuto nella nella sua vita in quel senso e lui guidava un'ape 50 è sempre in giro per genova questa ave 50 e una persona fantastica che per carte peccato è mancata quest'anno veniva veniva in negozio facevamo due chiacchiere ci raccontava un po come andava come stava come non stava si informava sulla su di noi su mia mamma e compagnia quindi bello e lui quando era ragazzino mi raccontavano che c'era un girevole nel negozio che avevamo di fronte adesso dove c'è la banca nazionale del lavoro il vecchio palazzo d'epoca c'era un girevole con le cartoline lui si nascondeva girava questo questo coso e le persone rimanevano la bocca aperta a vedere questa era un aneddoto loro un altro che cosa le posso raccontare quel signore che in fotografia mio padre mio padre negli anni prima degli anni sessanta e lui ha iniziato a lavorare io non so dire esattamente l'anno però dopo la guerra prima che si sposasse quindi tra il 45 e il 50 ha iniziato a lavorare e ha finito pochi anni fa che via era questa salita poi lei vuoi sì ma che che gente ci abitava che gente ci viveva è cambiata rispetto a cambiata prima c'erano negozi piccolini tanti c'era il parrucchiere qua vicino c'era un panettiere poi c'era mi ricordo che prima si passava con le macchine qua si andava si andava giù tranquillamente con le macchine cosa terribile infatti abbiamo messo anche delle piante fuori che qualcuno poi aveva provveduto a tagliare perché non gli incomodava che ci fossero le macchine che ci fossero le piante che impedivano il passaggio c'era stato un periodo in cui c'erano dei pesci vendoli che mettevano le cassette fuori all'angolo una lotta con mio padre perché c'erano questi qua però bellissimo il fatto che qua ci fosse palazzo di giustizia e il negozio era molto ben frequentato perché comunque avvocati eccetera facevano stampe insomma si vendeva parecchio soprattutto la tipografia andava molto bene proprio per quel motivo stampe di tutti i tipi ecco e ora cosa succederà dopo di noi non il diluvio spero che venga una venga un qualche bel negozio qualche bella attività ecco spero in questo e quindi chi l'ha comprato ci ha assicurato che cercherà di affittarlo bene